buongiorno amiche e amici oggi 10 aprile venerdì santo un giorno particolare un giorno per la sensibilità cristiana molto forte un giorno della contemplazione un giorno del silenzio attonito gesù muore sulla croce in questa giornata viene proposta la la passione secondo giovanni quindi il vangelo di oggi è tutto il racconto della passione secondo giovanni sempre al venerdì santo viene letta la passione giovannea mentre nella domenica delle palme si legge anche tutta la passione ma un anno per evangelista o un evangelo un evangelista per anno forse meglio un evangelista per anno abbiamo già detto la scorsa volta anno a matteo anno b marco anno c luca nel venerdì santo la passione di giovanni inizierei ovviamente non posso leggere tutta la passione mi fermerò su alcuni aspetti forse quando giovanni si ferma sulla sui versetti apice ecco del del racconto quelli della morte di gesù ma inizierei questo commento con una citazione di una poetessa una citazione coletto in questi giorni del di una poetessa straordinaria lei polacca premio nobel per la letteratura si chiama visuava scimbosca la scimbosca dice chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte che ho dato di fronte al mistero della crocifissione morte di gesù io credo abbiamo noi tradizione noi chiesa noi cristianesimo abbiamo dato forse inevitabilmente piccole risposte di fronte a questa grande gigantesca immensa domanda e forse dovremmo chiedere scusa per questo che oggi e domani sabato santo dovrebbero essere due giorni consacrati al silenzio di fronte a questo evento l'evento della croce e della morte di gesù di nazza oggi è facile sarebbe facile commentare l'evento croce e morte di gesù con categorie che sono state offerte in secoli e secoli di teologia che probabilmente non dicono più nulla all'uomo e alla donna di oggi pensate a termini come espiazione redenzione salvezza stessa che significato hanno assumono oggi termini così abbiamo costruito fin da subito e paolo san paolo ne è testimone una interpretazione di questo evento della morte croce di gesù sullo schema del yom kippur ebraico c'è il sangue c'è la morte di un animale di un capro questi sono i racconti dell'antico testamento che troviamo nella torà tra esodo e levitico questo animale che viene caricato dei peccati del popolo e questo animale che ha si è caricato di tutto il male tutto il peccato di tutta la colpa del popolo viene mandato nel deserto e lì morirà muore lui ma viene liberato il popolo dalla colpa ecco la teologia delle spiazioni la teologia della sostituzione vicaria redenzione salvezza noi abbiamo caricato l'evento croce e morti di gesù di tutto questo significato proveniente da una liturgia ebraica in fondo ovviamente non posso entrare anche perché non è lo scopo di questi video non è lo scopo di queste di questi commenti di fare teologia ci sarebbe qui da dire molto e l'ho già fatto poco tempo fa anche qui in ritiro mensile contenuto che a penerolo ma io credo che dovremmo noi cristiani fermarci con attenzione a recuperare queste tematiche questi significati queste parole che continuiamo usare ma che abbiamo in qualche modo spolpato del suo vero significato del loro vero significato si è fatto passare l'idea che gesù su quella quella croce abbia seguito una sorta di copione già precostituito doveva morire in croce perché doveva salvarci dai nostri peccati Paolo questa idea la fa passare Gesù è morto per i nostri peccati una frase che noi continuiamo a usare tranquillamente continuiamo a insegnare ai nostri catechismi che ha un significato ovviamente ma come va interpretata come va letta cosa vuol dire che ci ha salvati col suo sangue una frase del genere rimanda necessariamente all'episodio dell'esodo quando il popolo schiavo in egitto può essere liberato e quindi può passare la pasqua fa il passaggio dall egitto alla terra promessa proprio in virtù di quel sangue che viene spalmato sugli stipiti delle porte degli israeliti quindi grazie al sangue dell'agnello sgozzato con cui vengono passati gli stipiti ecco il popolo di israele può finalmente uscire dall'egitto e andare in salvo della terra promessa tenete conto che noi in ogni celebrazione diciamo ancora ecco l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo chiaro riferimento allo Yom Kippur ebraico l'agnello sgozzato l'agnello mandato nel deserto a morire l'agnello dalla cui morte viene la nostra salvezza che ha un significato ovviamente ma come come va percepito come va presentato oggi alle donne gli uomini del nostro tempo per non risultare irragionevole perché in fondo c'è ancora questa idea tipicamente vetero testamentaria per cui si pensa che la morte di Gesù abbia placato l'ira di dio per cui se Gesù non fosse stato ucciso la morte sarebbe ricaduta su di noi quindi lui ha pagato per tutti oggi tutto questo è rimasto in fondo nella nostra teologia nella nostra spiritualità sotto almeno come come sottotraccia ecco al nostro parlare pensate soltanto ad alcune frasi del grande himno che viene cantato nella notte di Pasqua nella veglia pasquale appena entrate in chiesa dopo l'accensione del cielo pasquale c'è questo grande canto e in questo grande canto abbiamo frasi come queste egli cioè Gesù con la sua morte croce ha pagato per noi sentite la frase Gesù ha pagato per noi all'eterno padre il debito di Adamo e con il suo sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica Gesù ha pagata Gesù ha pagato Gesù ha pagato all'eterno padre ha pagato cioè e si presume che ci sia un dio padre tra l'altro che ha bisogno che gli si paghi un debito contratto da Adamo e quindi continua il testo per riscattare lo schiavo hai sacrificato tuo figlio per pagare per riscattare lo schiavo hai sacrificato tuo figlio quindi questa idea che il padre ha bisogno di uccidere di sacrificare il figlio a fin di bene ma che padre è? a parte che è la prima regola della morale dell'etica e che non si può ottenere il bene da un'azione negativa cioè il fine non giustifica mai il mezzo ma poi che idea di dio viene passata eppure questa teologia che noi continuiamo a far passare in qualche modo questo è l'exulted è uno di questi lo dimostra ecco la dice lunga ecco allora io credo che dobbiamo pensare che la croce e la morte in croce di Gesù e la conseguenza risurrezione risurrezione sia un cammino eminentemente umano cioè l'uomo Gesù di Nazareth intraprende la via dell'amore e ha come conseguenza la croce ma non perché era prevista non perché dovesse morire in croce per salvare l'umanità ma la croce è l'ultima stazione di quel cammino intrapreso da Gesù da sempre chi ama paga cioè ne porta le conseguenze ecco la croce è la conseguenza ultima dell'amore Gesù ha possiamo dire dall'episodio del deserto con Satana anche lì ovviamente un evento simbolico ma lì Gesù ha deciso da che parte stare e sta dalla parte degli uomini amandoli fino alla fine cioè fino alle conseguenze ultime che per lui Gesù di Nazareth è stata la croce perché perché il potere religioso e quello civile hanno fatto pagare a Gesù questa sua scelta dell'amore e li hanno fatto pagare con quello strumento tremendo che era la croce in quel contesto sto quindi non c'era nulla di scritto nulla di già preordinato la croce è la conseguenza dell'essersi messo sempre dalla parte degli uomini difendendoli facendoli crescere crescere amandoli facendoli sbocciare in qualche modo cioè tutti gli evangelisti ci stanno dicendo che chi ama conoscerà la croce ma Gesù è qui a dirci che non è l'ultimo momento la croce non è un evento fine a se stesso ho detto che avrei commentato per i minuti che ci restano forse il momento più alto del racconto della passione secondo Giovanni siamo al capitolo 19 versetti 28 30 li leggo e poi cerco di commentare dopo questo Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura disse o sete vi era lì un vaso pieno di aceto posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca dopo aver preso l'aceto Gesù disse è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito Gesù dice o sete il testo dice affinché si compisse la scrittura affinché si compisse la scrittura ma non perché non nel senso che Gesù dice o sete perché così c'era scritto che doveva dire appunto non sta assolvendo ad un copione già scritto compie la scrittura nel senso che tutta la scrittura parla dell'amore di Dio dell'azione di Dio a favore degli uomini in questo senso compie la scrittura e e grida o sete o sete noi in Giovanni questo o sete l'abbiamo già ascoltato qui siamo a capitolo 19 ma Gesù l'aveva già pronunciata questa parola nel capitolo quarto durante quel dialogo splendido con la samaritana la samaritana va al pozzo trova Gesù e Gesù le dice dammi da bere perché o sete allora mettiamo insieme i pezzi di che sete si tratta Gesù qui rappresenta Dio e Dio ha sete di che cosa ha sete della mia sete affinché io li chieda quell'amore in grado di dissetare la mia esistenza Dio ha sete della mia sete per potermi dissetare per potermi dare la sua stessa vita e noi sappiamo che la vita di Dio è lo spirito lo spirito il testo dice vi era lì un vaso pieno colmo interessante anche questo colmo pieno d'aceto ora chiediamoci l'aceto sì primo livello un livello molto diciamo inerente al contesto sociale era facile trovare dei vasi di aceto soprattutto fuori della città teniamo conto che la crocifissione viene avviene fuori della città siamo in mezzo a dei campi e l'aceto era la bevanda eh dei contadini che sotto il sole tremendo eh del Medio Oriente si dissetavano d'aceto perché è ritenuta una bevanda eh in grado di non disidratare in qualche modo ma a un livello più alto che cos'è l'aceto l'aceto o meglio nell'ottica giovanea fortemente simbolica l'aceto e vino andato a male e che cos'è il vino pensate qui a Giovanni 2 quando Gesù trasforma l'acqua in vino cosa sta trasformando il vino è simbolo ovviamente della vita e della gioia della vita in pienezza della festa allora dell'amore in qualche modo allora qui abbiamo un vaso colmo di aceto cioè di amore andato a male e l'amore andato a male si chiama odio quello che Gesù sta sperimentando quindi cosa fa Gesù? assume questo aceto lo beve questo aceto e lo trasforma in vita in festa in vita in pienezza in gioia se ne disseta Gesù prende la nostra vita capace di odio ma col suo spirito la trasformerà in capacità di dono non sono venuto per i sani ma per i malati si prende la nostra malattia e la trasforma la porta a compimento ed è interessante notare che questa questo aceto viene dato a Gesù attraverso impregnando una spugna e questa spugna viene infissa ad un il testo dice ad una canna che non vuol dire nulla in greco non c'è c'è questa parola c'è sopra ad un issopo l'issopo ma se Giovanni usa issopo letteralmente sarebbe una spugna avvolta intorno all'issopo in esodo 12 22 c'è scritto che gli stipiti cui facevo riferimento prima gli stipiti degli israeliti schiavi in Egitto quella notte santa della liberazione dovevano essere spalmati sparsi di sangue e questa diciamo questo atto doveva avvenire con dell'issopo cioè l'issopo veniva immerso imbevuto nel sangue l'issopo veniva imbevuto nel sangue e con questo venivano spalmati gli stipiti è interessante allora come leggere questo passo il male il nostro sterminio cos'è che ci stermina in quel caso non più gli egiziani ma il nostro male l'odio di cui siamo capaci lo spirito che ci viene dato con cui entriamo in contatto ci salva cioè ci porta a compimento compie la nostra trasformazione ebbene tutta la vita di Gesù è stato un lavorare per questo per indicarci la via del compimento il segreto per salvarci dall'autodistruzione per questo che su quella croce Gesù una volta che prende il nostro amore andato a male il nostro odio dirà adesso tutto è compiuto una parola potentissima una parola su quella croce si compie finalmente il sogno di Dio che l'uomo possa finalmente dissetatosi dall'amore e dell'amore possa finalmente portarsi a compimento questo è il sogno questo è il sogno di Dio tutto è compiuto Gesù è venuto a portare a compimento il grande sogno di Dio ma non solo per Gesù stesso quella morte in croce è stata il compimento il suo compimento la morte per amore è il compimento della sua umanità Gesù su quella croce ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità la morte di Gesù è essere sbocciato a vita piena che si chiama questo sbocciare a vita piena risurrezione il testo dice chi nato il capo spirò consegnò lo spirito letteralmente sarebbe chi nato il capo consegnò lo spirito guardate che in tutti i Vangeli non si dice mai che Gesù morì in Matteo si dice emise lo spirito in Marco dando un forte grido spirò in Luca detto questo spirò e qui in Giovanni chi nato il capo consegnò lo spirito a dirci tutti gli evangelisti che la morte di Gesù non è stata la fine di Gesù in Nazareno la morte di Gesù è stato la potenzialità massima dell'uomo Gesù Gesù su quella croce in quell'atto ultimo che è la morte per amore ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità è diventato pienamente il Nazareno Gesù l'umano portato alle estreme conseguenze è come se la morte lo avesse fatto fiorire la morte non è la fine ma principio di vita comunicazione di vita è un portare frutto dare consegnare consegnò consegnò lo spirito diede lo spirito cioè ha potuto dare vita lo spirito che è la vita stessa di Dio proprio grazie alla sua morte quindi la morte è stata la deflagrazione dell'evento Cristo e poi notate che anche fisiologicamente non non torna come scritto perché Giovanni dice chi nato il capo consegnò lo spirito ma è strano appunto perché quando uno muore emette l'ultimo respiro e poi china il capo e invece qua no è il contrario chi nato il capo diede lo spirito ecco come funziona l'amore riceve l'aceto riceve l'odio e lui dona l'amore più grande riceve l'odio che lo fa morire ma in realtà gli fa dare il massimo l'abbiamo già detto le scorse volte lo ripeto l'amore darà il massimo di sé soltanto quando viene ferito l'amore dona il massimo di sé solo quando viene ferito allora su quella croce Gesù ci ha dato l'esempio come viene detto nel nuovo testamento Gesù morì lasciandoci l'esempio ma l'esempio di cosa di come portare frutto di come poter deflagrare anche noi come poter sbocciare Gesù ci sta dicendo che se tu vai fino in fondo all'amore senza rispondere all'odio con l'odio ma prendendolo su di sé su di te e trasformandoli in bene tu dai vita diede lo spirito tu dai vita ecco Gesù morì lasciandoci questo esempio e questa è la salvezza la salvezza è poter portare alle estreme conseguenze la nostra umanità Gesù ci ha detto come funzioniamo noi umani portiamo frutto diamo vita quando amiamo di un amore che sa andare fino alla fine non solo ci ha detto questo ma ci ha detto che l'avventura umana si compirà proprio con la nostra morte con la nostra morte la nostra morte la nostra morte biologica sarà atto di compimento della nostra umanità e sarà il momento in cui faremo esperienza della vita piena chiudo con una citazione ho iniziato con una poetessa finisco con un'altra con un premio Nobel che ho citato prima e adesso cito un altro premio Nobel questa volta non per la letteratura ma per la pace prima donna africana prima donna africana aveva ricevuto il premio Nobel per la pace una donna straordinaria una donna morta qualche anno fa per tumore e che ha sempre lottato portandone tutte le conseguenze per la pace per l'ambiente contro i sistemi forti dei poteri forti dell'Africa lei era Kenyota e ha scritto due libri ha scritto diversi libri ecco io qui in casa ne ho due solo il vento mi piegherà è la sua autobiografia vite solo il vento mi piegherà lei è Wangari Matai Wangari Matai e poi il suo impegno per la terra la religione della terra lei ha sofferto tanto per il suo essere donna per il suo essere africana e per il suo lottare e mi ha colpito una frase di Wangari che ve la lascio così come penso un riassunto di questo venerdì santo lei dice mi hanno sepolta ma quello che non sapevano è che io sono un seme questo è avvenuto anche per Gesù di Nazareth l'odio la cattiveria l'ha sepolto quel venerdì santo ma non sapevano che Gesù fosse un seme e il seme come dice Giovanni 12-24 può portare frutto appunto soltanto se viene sepolto se il chicco di grano non muore non può portare frutto e chiudo questa volta veramente con un invito io tutti gli anni ormai da diversi anni il venerdì santo nel venerdì santo mi prendo un attimo di preghiera musicale ascolto una delle due passioni di Bach o la passione secondo Matteo o secondo Giovanni l'ascolto tutta con il testo davanti è un modo per pregare perché si unisce la bellezza e la bellezza è sempre manifestazione di un amore e sotto al video troverete un link è un link a una aria della passione secondo Giovanni è il momento più alto che abbiamo letto dove si dice che tutto è compiuto ascoltatelo nel video che vedrete è affidato in realtà a una voce bianca vi leggo il testo in italiano ovviamente è recitato in tedesco e cantate in tedesco in italiano sarebbe così tutto è compiuto o consolazione degli afflitti contro l'attimo estremo di questa notte di morte l'eroe della Giudea trionfa e conclude la sua battaglia tutto è compiuto buona giornata